Siamo qua a Palazzo Belvumo, municipio di Sanremo, insieme all'assessore alle attività produttive Barbara Biale, il MOAC compie 50 anni. Il MOAC compie 50 anni e ne siamo assolutamente orgogliosi. È un evento fieristico, ma è entrato nella tradizione, nella storia delle tradizioni di Sanremo. Tutti i sanremesi sono legati a questo evento che ovviamente allieta anche i turisti, perché il periodo in cui si svolge è immediatamente dopo Ferragosto. MOAC che per la seconda volta, per il secondo anno consecutivo, ritorna in centro, ritorna per arricchire quella che è l'offerta degli eventi e integrarsi con tutte quelle che sono le attività economiche del territorio e speriamo che ci sia, come hanno detto gli organizzatori, qualche chicca, qualche sorpresa particolare, ma soprattutto si sia recuperato quello che è lo spirito della tradizione, dell'artigianato e anche delle lavorazioni dal vivo in un confronto tra artigianato locale, italiano e internazionale. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.